che laica a Stoccolma in patria, lui che è cresciuto nella squadra di casa del nord 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 della Svezia, Kiruna qui c'è il sudafricano Clarence Mugnay, la quarta su cinque fra le tempi di ripescaggio possibile 21.35 il migliore, Kosen Hwan, Corea del Sud, 21.47 Mofa Drangiru, Kenya Musa Ali Issa Bahrein a 21.53 e poi un improbabile Li Gyu Kiong, 21.84 ancora Sudafrica che sta crescendo in maniera straordinaria dopo il risultato complessivo fa 20.41 con un metro due di vento contro è vero che ha corso come un ossesso per tutta la gara quindi non si è risparmiato granché ma Clarence Mugnay fa questo gran bel risultato Mugnay arriva molto vicino al suo primato che continua ad essere a 20.36 all'esterno Cameron Tyndall ha fatto 20.78 sul primato Tyndall che aveva che ha corso come un'ottomato che ha corso come un'ottomato